e che ci ritornate con una nuova reaction non so che l'ultimo video è stata una reaction ma per motivi di tempo non ho avuto l'occasione di registrarvi dei vlog abbastanza a tanto da attivarli qui sul canale ma vi porto una reaction su Doc Veneta siamo qui ad ascoltarci oggi Asfalto Freestyle ma prima devo spalmare ovviamente il mio profilo Instagram andatemi a seguire tutti qui su Instagram se ancora non lo fate spero che la fotografica me la mette a nuovo e carico delle foto massa thumb quindi andatemi a seguire se ancora non lo fate e dopo aver spalmato Instagram andiamo ad ascoltarci Asfalto Freestyle sentite l'atmosfera questa è la mia mano fioi c'è il mio braccialetto ho detto che c'era una storia dietro effetti VHS questa ancora ci prova questa palatine suota il calice ora suona facile torna fragile torna facile ferire da andarsene mi sento perso ma se perdo non perdo tempo questa ancora ci prova ti inderido o no? ora il tuo problema è che mi sento all'altezza ma dall'alto lo vedi ancora con le geresta quindi aspetta non completi qui si prega ma non completi non comprendi non competi ancora Rossi cazzo a terra che mi provoca il mio nome invoca pico visto che non mi diverto mi dico era alla testa del padre finora puzzle ora dei campi tu sguardo adesso taggio la corda sale non mi rimane molto sfida mi giro stimale ne esci monco resto solo senza contendenti certo mi divertirei questi fossero competenti zitto conviene sempre serio ma nelle vene ho una dose di vita si chiama Siero la pippa bellissima vedo se è l'altura vedo se è l'altura vedo se è l'altura dopo uno scopo non se lo spiegano sei un collega ora vuole fare il rap per prego mezza sega mezza sega secondo la tua logica non ti batto non ti batto asfalto allora come avete potuto sentire conoscevo abbastanza bene la canzone per un motivo semplicemente sono io il videomaker del video vi voglio spiegare perché questa canzone mi piace assai quando mi è inviato la prima track di asfalto freestyle all'inizio ho detto ci sta era orecchiabile dopo ci siamo incontrati ho registrato il video con lui è stato gentilissimo perché ha già in mente un progetto di video io ho cercato di editare il video nel stile che lui mi aveva chiesto quindi utilizzando moltissimi effetti VHS infatti come vedete ci sono effetti glitch vabbè tutte cose che per chi se ne intende le ha già viste nel video successivamente aspettando infine poi la traccia finale di questa canzone e quando mi ha inviato la traccia finale ho detto no fermi non è la stessa cosa forse è stato veramente questo che mi ha colpito della canzone sentire la prima versione e sentire la versione finale con tutti i dettagli il flow la base gli alti bassi sistemati mi ha colpito veramente tanto ringrazio di nuovo Filippo che mi ha dato la possibilità di editargli il video e si è fidato di me sia per l'editing che per la registrazione delle clip se non avete ancora scontata il link sarà qui sotto in descrizione oppure qui in alto sulla e spero di aver fatto il giusto e basta comunque ragazzi spero che era avuto un buco mi sia piaciuto so che è un genere di canzone che non a tutti può piacere ma io essendo stato rifatto in questo video in sé come si può dire lei si è fatta piacere a me sì un po' semplimentalista sta roba però dai sì avete capito mi piace se il video vi è piaciuto invito a lasciare un bel like commentate se volete iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto qui dalla mia video di con me ciao 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 ciao